Buongiorno a tutti, con piacere oggi vi presentiamo il nuovo sito DAS.it, un sito responsive accessibile da qualsiasi device, quindi dal vostro pc o dallo smartphone, ovunque voi siate. Parola d'ordine del nuovo sito, semplicità, quindi semplicità di navigazione ma anche di contenuto. Direttamente dall'home page del sito potrete trovare tutti i nostri canali di contatto e con un semplice click inviare un'email, fare una telefonata piuttosto che accedere ai canali social della nostra compagnia. La prima novità è che abbiamo introdotto quattro principali target a cui si rivolgono tutti i prodotti e le soluzioni di DAS. Il primo l'ambito della circolazione del movimento, il secondo l'ambito della persona quindi la vita privata, il terzo l'area della libera professione, dai medici ai geometri, agli ingegneri, agli architetti, fino al quarto target, il mondo delle imprese, tutti i prodotti della linea business, quindi dalla piccola impresa artigiana al mondo edile, all'azienda agricola, ai condomini, gli alberghi e le figure apicali d'azienda. All'interno delle quattro sezioni dei target di riferimento è possibile poi trovare l'elenco completo dei prodotti DAS disponibili, con le condizioni contrattuali e la relativa lettera di presentazione delle garanzie. L'area intermediaria invece è dedicata alle nostre reti distributive, dove potranno ordinare il materiale di consumo, accedere ai corsi di formazione in aula e presto anche online e al portale operativo online DAS. La funzione del cerca agenzia permette al cliente di già localizzarsi e di conoscere l'intermediario più vicino a lui. Al momento abbiamo inserito una selezione di agenzie, ma DAS si avvale di una rete capillare di oltre 2000 intermediari su tutto il territorio nazionale. Qualora non doveste trovare un punto di riferimento nell'area di vostro interesse, potete contattare la compagnia per avere l'elenco completo degli intermediari disponibili sul territorio. Saremo noi a darvi una consulenza su quale è il più adatto alle vostre personali esigenze. Per essere sempre aggiornati sul mondo DAS e della tutela legale è poi possibile seguire la sezione News. All'interno di questa sezione ci sono diverse rubriche. Ve ne segnalo due in particolare, la sezione dei video e i casi risolti, dove raccontiamo proprio delle case history accadute ai nostri clienti, in quanto tempo si è risolta l'avvertenza e quanto avrebbero speso i nostri assicurati se non avessero potuto contare sul supporto di DAS. Naturalmente tutta questa parte è in continuo aggiornamento ed evoluzione a mano a mano che introduciamo nuovi strumenti, nuovi servizi o delle novità della compagnia. A questo punto per concludere non vi resta che digitare www.das.it.